Alesia 52 a.C. si è appena conclusa la battaglia decisiva tra l'esercito di Cesare e le tribù galliche in rivolta guidate da Vercingetorige. A nulla è valso il tentativo di resistere fino all'ultimo all'assedio dei romani, consegnare donne e bambini al nemico per utilizzare al meglio i pochi viveri rimasti non è servito a nulla, i romani li hanno lasciati morire senza pietà fuori dal loro accampamento. Vercingetorige preso atto dell'errore decide di arrendersi al nemico di sua iniziativa, è l'ultimo atto della conquista della Gallia. Quid opus est tibi vercingetorix che bisogno ai Vercingetorige tali modo exornari di farti così bello alla lettera di ornarti in tal modo chiede Critognato a Vercingetorige che si è vestito di tutto punto per incontrare Cesare. Nessit sane dedizio unquam yucunda critognate risponde Vercingetorige. Ammettiamo pure che nessit sane dedizio la resa unquam yucunda non sia mai piacevole, ammettiamo pure che la resa non sia mai piacevole. At non paziar ma non sopporterò me putere di puzzare coram ipso Cesare proprio davanti a Cesare al cospetto di Cesare. Vercingetorige ha fretta di incontrare il nemico. Festinemus affrettiamoci grida. Utinam paraverint speriamo che abbiano preparato ecum meum il mio cavallo. Critognato non risparmia critiche alla strategia adottata da Vercingetorige, vera causa della disfatta a suo avviso. Romanorum necessitatem intellego, capisco le difficoltà dei romani. Nam victum sibi servare voluerunt. Infatti hanno voluto preservare i viveri per se stessi. At nostri cives nobis foras expellendi fortasse non erant. Ma forse non dovevamo o meglio non avremmo dovuto far uscire i nostri concittadini fuori dalle mura. Dicas sane rem veram, ammettiamo pure che tu dica una cosa vera, ammettiamo pure che tu abbia ragione. Quid autem? E allora? Cibus non sufficebat nobis, prosegue Vercingetorige. Il cibo non era abbastanza per noi, nedum is, tantomeno per loro. Quid ageremus? Che cosa avremmo dovuto fare? Num nobis vorandi erant? Avremmo dovuto mangiarli? ut in concilio censuisti? Come hai proposto tu nell'assemblea?